Allora, che l'OFF non stava strasciosa, che l'è sciudata tutta, come la cristiana, se l'è sciudata in maniera differente, e se l'è vero che se l'è stessa arpeggiata per il sud, per il nord, per l'est, per l'est e per l'est, se ne considerare a chi, d'altra variabile, che non è vero che se l'è sciudata picciarello, da campana, da un paesino, e un'altra metropologia, se l'è. Eppure, se se limitasse un solo città, pari che fa l'esempio, tutto l'humore sape assai bene, che l'oprimo mattino, change de cartè a cartè, tutto come la cristiana. All'oprimo, che tenono l'ouvro per l'esistenza del bureau della poste centrale, il soleil si rieva con le rete courrier, e allora l'humore dipende dalla cartolina, dalla lettra che, se le raccomandate, piacerebbe un po' facile a nostri cittadini. E lasse. Si parlavamo invece della plaza della Concorde, l'octavo a Roma, situé da una parte del Champs-Élysées e dall'altra del Giardin de Touréry, Ebbene, allora, la giornata è iniziata quando tutta la luce dell'ampara calentura, tutt'utura, s'estuta nell'antrasalto, e l'assare, il soleil, li compita di allumonare la rue stritta e l'auce, e le spettacole da Ville Lumière, vero, amore? Per la Bastille, Bastosch, qua? L'aube, se il caffè ha un fesso l'obelisca, che faremo meridiani con l'ore exatto, che ci manca solamente lo guardalino d'arai. E potesse fare un altro esempio, di lumina luminà, poi ognuno deva rondissimo, cartè apri cartè e puscià cartè per mostrare che l'oistice non le manca da punto a punto da cartè, e che fin anche da maison a maison, da casa alla casa, la sciosa l'oistice non è, non si sognia per l'amore. E fin anche sul palier, da piena rotta, da piena rotta, del sacciaggio, e, perfoi, da camera a camera, da letto a letto, come lo cristiano qua. Si sa che là della gare del nord, tu, diciamo, Radosimo, che ti leva lì oggi al cielo per ronorare la fassata, dall'orologio, e manco fai due passi che tu, diciamo, che tu ritrovano 4 e 4 attrotti alla gare dell'est, e ti confiuno di pandurare tra chi li chi vuole e chi viene da Londra e Picardie, che, seppur ti pare incomparabile, che l'ata e fel, ti fai comemmo all'imè, e attendre che tu ti ramène da panture a panture, da souvenir a souvenir, come le caffè sulle boulevard, quando, in compagnie dell'anima de cortesà, o Miller, o l'Ernest, sa va sentire. Faut parlare del resto. E lo primo mattino, Ardò, dicero, du marché d'aligre, per l'allegria sa stampa sulle bancarea de fruits e de legume, su la circosposizione de pipocchè che controlla il movimento de greve generale, da sa coche. Sa, allora? La, oui, che la festa commence, par de vrai, e se rivella pure l'anima du paysan che ce porta la spazio avanti André. Potete rossi che a mettenne che talera addurmontata lo genotare che per l'ascesa da lo mantiene e che a mezzo la tomba de l'anima e de l'autre d'un Renault-Russell, per esempio, e che te promene e walk jusqu'au guai le mattine d'Oscar o Verona e lo scudolamento de trippestà là-bas e pensando, pensando jusqu'au meni il montant che è diciannove e a sé colline potete rifacire il plan del caffè turco mezz'annata. E si trarizza che si basse con un ottobro romanzo si soffimano all'opigale dove si ottiene s'ambosca la galina e pure se le streptuzze si promene con vestali e bigliti di grudà dalla capa la botta di vino rosa pur sopra da chi altro non lo trovo non lo so non lo so non lo so il rivelo intellettuale si è solo e certà alla plaza sorbonne piccana piccana che sta in dallo singolo a fondo come la dette dell'amante e sta puissance tutiantina di sbaraccia di complot soprattutto quando la primavera e le vesti si fonde allora fino a fine e l'esprit di finestra si in due panteons dell'arte e dell'istitio assa allora che movili per lo sexto catapera catapera del giardin del Luxembourg jusqu'à la fontena plato a l'alba che in mezzo e fronne d'arbre e le follaggio che tremole tutto il cuore dallo speculo d'acqua al buon mattino pure le barchette c'estano e le enfants con le barchette di canna spingono e poussano a qua e allà come una battaglia dell'epanto a preparare si allora il cuore è tutto in flamme e fuoco che non si vuole dire che la pompiera manca se la fumetta si leva si torna io vuole allora d'un camminare la plaza di Vosce che la portata si forma tutta rondita entro le troie le cattro du cartè alà e s'enferme il cuore a tutte le ore e le mattino ossì c'è stata una fiebre tutta e consola stamattina partecipata con l'ottiva o allora entretto a tetto con l'amata la lacrima con le troie la table ronde è ferma e il caffè serré ma mica sa è pronto la sigaretta la gitana è bocca la prevera gli all'aube glamour che merita il salto dell'oca dall'avenue montagne con dior en terre l'ongaro chanel e son numero starletta e la moda chi tomanaccia da una parte con lo lèche di trina e dall'altra t'encanta lo parfum dei rosa da film una pella sai tenar che al sol come si volare potesse insieme agli scubottare monnozzare che da primo mattino scurazza un po' scienza di sé e cura in freccia verso lo triunfo dell'arco e c'è sta pure lo rivelo dei santo plaii dei banchi e dei bus entro la seconda rondissono e l'opera opera e le gran boulevard e curro curro guaiolo curro curro tu lo mochi parecchi danse dalla bocca di un metro giusco il burro il soleil è messante lo trova la porta a pari che è terro d'orion e d'italia di trese che porta fortuna lo numero e trese con un loto loto che è niente c'è sta un altro quartè passare veglia in tutta calma e misura ma te lo numero sgaramantica e tic e tic che te passa la poasse allora e sfiga non se ne parla a chi insomma sta alba a pari ten menemo menemo mille centocinquantaquatre parole di ferro per lo dicere e napoli o sì